Tre gol e un assist messi a segno nelle ultime quattro giornate di campionato. Contro il Gallipoli, Marco Rajkovic si è travestito ancora una volta da match winner e così come è accaduto già in Coppa tre mesi fa, ha deciso il derby tutto salentino con i giallorossi. Questa volta in palio non c'era un semplice passaggio del turno, ma tre punti pesantissimi, utili per restare sulla scia della capolista, ma anche per raccogliere il quarto successo consecutivo in campionato. Il centravanti serbo, nativo di Belgrado, sta riuscendo a farsi valere in rossazzurro, dove nelle ultime settimane ha avuto il non semplice compito di sostituire Leo Perez senza farlo rimpiangere. Missione compiuta per il momento, con mister la terza che si gode i gol decisivi dell'ex Franca Villain-Sinni, già a meno due dal record di reti messi a segno nel corso della passata stagione. Il suo record di gol in Italia è infatti nove ed è stato scritto lo scorso anno in Basilicata. Adesso ci sono tutti i presupposti per superarsi e raggiungere la doppia cifra. A facilitare questa missione gli assist di Citro, Jonai, Falcone e Gambino ed a breve anche di Corvino. Rajkovic è l'attuale capocannoniere di questo casarano e fin quando Perez non tornerà ad essere arruolabile, spetterà a lui farsi carico dell'attacco salentino. Intanto, dopo due giorni di riposo, la squadra ha ripreso gli allenamenti presso il Centro Sportivo e Forte di Parabita, inaugurando ufficialmente la settimana che porterà al derby con il Berletta.